E' una croce che porta sulle spalle dal primo giorno del suo mandato. Cominciò con il casco giallo sulle strade dissestate, cantieri sparsi nella città delle buche. Capì subito che sarebbe stata una grande impresa, praticamente impossibile spalmare l'asfalto dal centro alle periferie. Casse del comune dissestate, come le strade. Il primo cittadino a essere arrabbiato per questo stato precario delle strade sono io, perché sono anche automobilista e quindi so che significa percorrere le strade a Foggia. Però ognuno deve fare i conti con la realtà e deve capire da dove siamo partiti. Posso rassicurare che il numero delle strade che abbiamo fatto è di gran lunga superiore alle strade che negli ultimi dieci anni hanno fatto, anzi che non hanno fatto i governi di centrosinistra. Io non sono un cretino che non voglio fare le strade o i marciapiedi, ho l'impossibilità di farle. La manutenzione delle strade è un'ossessione, scava nelle casse del comune ogni giorno. Prima di Natale vorrebbe appaltare i lavori di manutenzione in via Cavotta, zona Pantanella, via Napoli e via Manfredi. L'elenco delle strade rifatte dal comune si allunga un passo alla volta nella grande piaga da ricucire. Il cittadino ha perfettamente ragione, però se la deve prendere con chi ha devastato le casse del comune. E non è un discorso strumentale, è certificato dalla Corte dei Conti e dalle finanze locali. Quindi dobbiamo arrabbiarci con chi ha devastate le casse e che non ci consente di fare una manutenzione ordinare e straordinaria delle nostre strade. Quindi prendetela, cari cittadini, con chi ci ha saccheggiato le casse del comune. Grazie.